Buongiorno, buona mattina, ben ritrovati queste Occhio ai Giornali, la rassegna stampa in diretta di Fano TV. Abbiamo già pronti i giornali da farvi vedere le prime pagine, le notizie principali poi naturalmente con tutta calma potrete approfondirli comprando i giornali in edicola e entrando nel dettaglio degli articoli. Noi vi diamo i lanci, i flash, vi facciamo vedere di che cosa si parla questa mattina. Ma prima di fare questo vediamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo. Oggi giovedì 30 luglio, San Pietro crisologo e vescovo, il sole è sorto alle 5.54 e tramonterà alle 20.35. Il tempo, partiamo dalla nostra postazione meteo come di consueto e vi fa vedere subito una temperatura che parte già diciamo abbastanza impegnativa, già ci sono a quest'ora 27 e passa gradi, l'umidità è del 57%, quindi insomma è un'umidità gestibile ancora, insomma cominciamo ad avvertire problemi quando l'umidità è intorno al 70% e oltre, dove insomma c'è un percepito più importante, qui vedete tra temperatura reale e percepito c'è comunque poca differenza e continuano come vedete anche le giornate siccitose, vedete nelle precipitazioni sono veramente al lumicino e questo sta creando anche problemi per le riserve idriche, vediamo cosa ci manda la webcam, vedete c'è poco da commentare, questo è il cielo ed è come si presenta in questo momento, vediamo l'evoluzione nei prossimi giorni, queste sono per oggi, vedete sereno, poco nuvoloso in mattinata, insomma ci sono sviluppi cumuliformi ma diciamo non compare perlomeno sulla costa nella zona nord delle Marche, la simbologia della pioggia invece nel settore settentrionale e anche sui rilievi, rovesci temporali sparsi durante le ore pomeridiane, soprattutto nel settore montano e collinare, nessuna variazione per le temperature, domani invece domani compare la pioggia anche nella nostra provincia, come vedete almeno nella simbologia, irregolarmente nuvoloso in mattinata il cielo con locali addensamenti più intensi, però in attenuazione nella serata, ad iniziare naturalmente dal nord, rovesci e temporali sparsi, però nella prima parte della giornata e più probabili nelle zone interne, vedete anche la simbologia della cartina è chiara, le temperature per effetto anche di questi fenomeni sono in diminuzione sabato, primo giorno del weekend, vedete più o meno è come oggi, cielo poco parzialmente nuvoloso in mattinata, c'è un'intensificazione della nuvolosità nella seconda parte della giornata, ci sono possibili rovesci e temporali sparsi, però nelle ore pomeridiane, ma in formazione più consistente nelle zone interne, la tendenza, la tendenza la vediamo, come sempre giusto per darvi così un'idea, possibili episodi di instabilità nella giornata di domenica, a seguire un probabile ritorno a condizioni di tempo stabile e bello nelle Marche per il, per l'inizio della settimana entrante e quindi insomma questo è perlomeno a grosse linee quello che accadrà a livello meteorologico, guardiamo le notizie, come vi dicevo partiamo dal orribile delitto di Ismaele Lulli, oggi è un'altra giornata importante nel sviluppo e nel dipanare questa matassa che man mano che si va avanti nelle indagini appare sempre più intricata e stretta, oggi ci sarà un incidente probatorio, saranno messi a confronto i tre protagonisti e perlomeno due sicuramente, Ambera è al vaglio degli inquirenti, soprattutto che tipo di ruolo e che tipo di influenza ha avuto sull'omicida. Il ruolo anche della droga è stato indagato anche per spaccio di Ascis, su Facebook usava un profilo finto e femminile. Igli picchiò Ambera e a Selva Nera, mi hai tradito gliela farò pagare, minacce ripetute verso Ismaele e un altro giovane poteva essere il possibile obiettivo. Oggi appunto vi dicevo ci sarà il faccia a faccia, Ambera incontrerà il suo grande amore che però l'aveva presa anche a schiaffi e calci. naturalmente non ci sarà un vis-à-vis ma sarà un collegamento dal carcere però i tre saranno in collegamento. Il filo della paura, vogliamo andarcene da lunano o paura può succedere qualcosa. Insomma quindi vedete un clima di terrore si sta delineando una situazione molto ingarbogliata e soprattutto dalle varie sfaccettature. Vedremo nelle prossime ore quale sarà il quadro più delineato insomma grazie al lavoro degli inquirenti. Andiamo a Pesaro con il resto del Carlino, spiaggia dei cani, si parla sempre di questa eventualità. Il comune dirigista oggi ogni bagno dice attrezzi suoi spazi per fido. Crescentini di Siamo a Pesaro lasciamo la scelta ai concessionari. Copiare la Romagna, lì ci sono ben 49 bagni attrezzati perché non dare la possibilità anche da noi. Questa è l'idea. Fano per il resto del Carlino focalizza nella pagina di apertura di quelle dedicate a Fano sulla vertenza Saipem. Annunciati importanti esuberi 8.800 consultazioni febbrili tra il sindacato e i lavoratori. Allarme e preoccupazione perché arriva questa doccia fredda dopo le rassicurazioni del 7 luglio scorso del ministro Guidi e fa preoccupare anche soprattutto quali saranno gli stabilimenti e dove sono quelli che subiranno i tagli. Questo ancora non è dato sapere. Consiglio comunale, entriamo nel Consiglio comunale di Fano, lascia Danna, lascia lo scranno al suo posto Danna Pierpaoli e Giancarlo Danna appunto addio alle armi. Ancora da Fano la cultura non è di pochi, critiche assurde questo è il commento, il PD scende in campo, con questa opposizione è impossibile dialogare solo offese naturalmente sotto la lente di ingrandimento e gli argomenti sono quelli che ormai sapete ripetutamente Fano dei Cesari, Carnevale estivo, il Paglio ha i costi e qui si vede anche un momento di passaggi festival, il festival della saggistica e appunto la sfilata romana che indica la Fano dei Cesari. Croce rossa, non capiamo le polemiche, siamo in regola, assunti 13 operatori su 15, questa è la vicenda che riguarda gli esuberi di Croce Verde e di Croce Azzurra, vediamo come sarà lo sviluppo di questa questione lavorativa, comunque il lavoro è anche sul tavolo del governo, quindi insomma centralità di questo argomento anche per la nostra zona. Cambiamo città, andiamo naturalmente il caso dell'outlet, parla la provincia tempi più lunghi, Tagliolini dice serve una variante, l'opera si farà, la questione non è politica ma tecnica, parliamo dell'outlet che dovrebbe venire realizzato a Mondolfo e poi sanità censurata la regione, ordine del giorno di Pergola nel cuore contro Ceriscioli, siamo a Pergola per l'ospedale di Pergola che si frappone alla politica centrale regionale. Cambiamo la testata, andiamo al Corriere Adriatico per un ritrovamento importante per la città di Pesaro, si parla di una statuetta di bronzo, era stato rubato al Museo Oliveriano, è stato riconosciuto da un appassionato nel catalogo di una casa d'aste di New York e torna a Pesaro del Colino che mancava da 51 anni e ecco qua, anche nel Corriere Adriatico si riprende la vicenda dell'omicidio di Sant'Angelo Invado, Ambeira deve rispondere alle domande davanti a Igli sulle dischiepanze, diverse sono dischiepanze da chiarire. Ismaele, cronaca di una morte annunciata, sono diverse le sfaccettature di questa vicenda, man mano che gli inquirenti vanno avanti nelle loro indagini, qui vedete il colonnello Antonio Sommese e il PM Irene Lilliu che conducono le indagini, cronaca di una morte annunciata perché? Perché parecchi sapevano di questa, così, sulla carta, intenzione di Igli di vendicarsi su Ismaele, cosa che poi ha eseguito, forse qualcuno pensava che non avrebbe dato corso alle minacce, invece purtroppo così è stato, quindi cronaca di una morte annunciata, lo aveva lui ripetuto diverse volte a Ambeira che avrebbe ammazzato Samuele, Samuele, insomma qui naturalmente è un rifuso, è Ismaele per lavare l'onta del tradimento e insomma forse è stata un po' sottovalutata questa minaccia ma nessuno ha fatto nulla per impedire il crimine pensando che non fosse capace di dare seguito, invece il delitto è stato commesso come pare su un romanzo di Gabriele Garcia Marquez ispirato proprio a un delitto d'onore, questo è. Dopo il sindaco di Fano siamo all'emergenza idrica, vi dicevo guardando un po' le previsioni del tempo che insomma il perdurare della mancanza di pioggia sta creando problemi quindi anche il sindaco di peso come aveva fatto il sindaco di Fano e Montemaggiore ordino di limitare i consumi e quindi è stata emanata una ordinanza per evitare lo spreco dell'acqua potabile per altre cose che non siano l'uso domestico alimentare o di igiene personale. Ancora da Fano per il Corriere Adriatico rischia di annegare una donna, è gravissima, versa in gravi condizioni nel reparto di arimazione del Santa Croce, è stata, l'abbiamo data in apertura di telegiornale ieri, è stata ritrovata, esamine nell'acqua, riportata arriva, sono partiti subito i soccorsi però versa in gravi condizioni ed è in rianimazione. Dubbi sulla sua identità perché nessuno la conosceva, la Capitaneria di Porto ha avviato subito delle ricerche lungo tutto il littorale per capire con chi fosse, se fosse da sola o con altre persone, però pare che la donna fosse una turista ed fosse da sola. Giro di vite alla Saipem, allarme a Fano, Lara Ricciatti vuole sapere se Fano sarà oggetto di questo ridimensionamento, esuberi per 8.800 persone perché insomma c'è una perdita nel primo semestre di 920 milioni, quindi insomma un buco notevole. Vuoi fare l'amore e gli ruba la collana, ritorna la ammaliatrice che aveva già colpito, ultima vittima un uomo di piagge, questa volta è stata è stata ciuffata, danna si dimette, danna si dimette e nuovi volti in politica nel consiglio comunale di Fano. Pesaro, cambiamo la testata, l'ultima che vi facciamo vedere come sempre è quella del messaggero, ecco qui, anche qui delitto Luli, oggi il faccia a faccia incidente probatorio, mentre Igli e Mario potranno sentirla però in collegamento dal carcere. Il PM Lillio vuole mettere a confronto i punti di contatto e le divergenze delle tre versioni per fare un po', come si dice, quadrare il cerchio. Ecco qui, nella fotonotizia stop agli sprechi, anche il comune di Pesaro dopo quello di Fano, insomma un giro di vite per evitare appunto che l'acqua venga sprecata, l'acqua potabile. Tempo incerto nel weekend, questa è la previsione del meteorologo, del messaggero. Supermercati contro, torna a questa possibilità che a Pesaro si aprono dei supermercati in centro, naturalmente restano tensioni in camera di commercio, si profila una tregua con le categorie, però insomma questo procura qualche notte insonne. Il Paso dice una totale mancanza di concertazione perché siamo stati chiamati a discutere soltanto due giorni prima del voto, quindi non c'è stato tempo di elaborare proposte o di valutare altre possibilità. L'amministrazione quindi non blocca il piano regolatore light, ma si dice disposta a concordare qualche modifica dopo l'approvazione del Consiglio. Ancora dalle pagine di Pesaro, il palio dei braceri, una cosa nata per gioco da un ragazzo e in cinque anni cresciuto, è divenuto un vero e proprio avvenimento e insomma Pesaro è molto bravo a accogliere queste occasioni, Matteo Ricci in prima fila, lo vedete appunto con colui che ha creato il palio, Santini e il suo palio, così abbiamo cambiato l'estate dei pesaresi. Ancora ultime pagine del messaggero che vi faccio vedere, omicidio luglio, oggi appunto il confronto a tre, dopo l'interrogatorio fiume di martedì la ragazza sarà sottoposta a incidente probatorio per fissare appunto i passaggi chiave di questa vicenda per definire un po' tutti i contorni che sembrano sempre più foschi, ahimè, di questa vicenda. Pagina di fano del messaggero, musica, due ore di deregulation per animare il centro e il mare, la giunta trova la mediazione per conciliare l'offerta turistica più vivace e il diritto al riposo, tutte e due le esigenze devono convivere e poi sulle dichiarazioni di Carla Luzzi di Sinistra Unita il PD dice una becera agogna mediatica o con questa opposizione non si può dialogare. Danna lascia il consiglio ed entra Pierpaoli. Questa era l'ultima pagina come sempre del messaggero che riguarda Fano, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa, un saluto anche a coloro che ci seguono in replica, come sempre dico tutta la giornata potete restare in collegamento con noi e con le news attraverso il nostro portale internet e la nostra pagina Facebook, Occhio ai giornali tornerà domani mattina alle 7.30 ma questa sera ci sarà occhio alla notizia naturalmente alle 20.30. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti voi. Grazie.